salve a tutti e come sempre benvenuti sul mio canale io sono Miska siamo di nuovo qua ai piedi della quacella e da questa parte stavolta dovremmo riuscire a portarvi insieme andiamo grazie a tutti grazie a tutti finalmente incontriamo un bel esemplare un piccolino esemplare di abete delle madonie abiesis nebrudensis o nel dialetto siciliano arvolo cruci cruci proprio perché forma tutte tutte queste cruci nelle ramificazioni non grazie a tutti 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 E siamo arrivati sulla cima di Monte Quacella, 1800 non mi ricordo metri, vi faccio vedere una vista a 360 gradi. E wow, bellissimo, arrivare in cima è una delle sensazioni più belle.